Padre Petru, qual è la memoria liturgica di San Nicola, che è un santo che unisce un culto, per meglio dire, che unisce la Chiesa Ortodossa e quella Cattolica? Oggi, 6 dicembre, anche sia nelle Chiese Cattoliche sia nelle Chiese Ortodossa, celebriamo la memoria liturgica di San Nicola. E' quello che è chiamato spesso il ponte tra l'Oriente e l'Occidente, perché è un santo amato di tutte le due Chiese. Il popolo rumeno, ma il popolo ortodosso, ancora di più, è più ricco nei significati, perché tutti i bambini della Romania, la sera prima di San Nicola, noi lo chiamiamo Babbo Nicola, passa tutti i bambini e porta un dolcino, che lo mette nei scarpi vicino alla porta. Quindi, nella sera di Babbo Nicola, tutti i bambini si devono preparare i scarpi per passare il santo a lasciare qualcosa. Ma, vi dicevo che è un santo che unisce. Papa Bona, Papa Giovanni, diceva, cercate le cose che vi uniscono. Spesso sono le persone che mi chiedono le differenze, ma invece sono pochi quelli che cercano le assomiglianze, le cose che uniscono. Quindi, oggi, per noi, è un santo che unisce quelle due comunità, sia Cattolica sia quella Ortodossa. Un momento di unità che, tra l'altro, viene suggellato, è stato suggellato nei giorni scorsi con la firma in municipio del rinnovo della Convenzione per la Chiesa Ortodossa, per questo luogo di culto che è stato istituito a Basto negli anni scorsi. Insomma, un segnale di amicizia. Ringraziamo Dio, ma Dio lavora tramite i santi e noi siamo chiamati tutti alla santità. Quindi, Dio lavora con noi, solo che noi dobbiamo lasciarci nel male di Dio. Ringraziamo Dio e i Suoi santi che ci ha aiutato per avere un luogo di culto, sempre un luogo di culto e una casa di Dio. Oggi, celebrando San Nicola, abbiamo celebrato nella casa di Dio la memoria liturgica di questo santo, molto importante per la nostra comunità. E ringraziamo tutti che l'hanno fatto possibile di avere questa firma, di un contratto, di avere una sicurezza su un luogo che noi preghiamo per le autorità, per il Paese e anche per quelli che ci ospitano, per tutti quanti. Grazie.